Dampir numero 1, il figlio del diavolo. Sono un po' in ritardo? Scusate ma nell'aprile del 2000 ero troppo impegnato a compiere 15 anni e YouTube non esisteva ancora. Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti, nella rubrica bonelli. Come promesso ho letto il numero 1 di Dampir. Quando ve l'ho promesso? Quando ho fatto la trailer reaction del film omonimo che esce esattamente oggi in tutte le sale italiane con anteprima a Lucca Comics & Games. Quindi approfitto per dirvi che mentre voi guardate questo video io in realtà non sono qua, sono a Lucca e probabilmente starò guardando il film di Dampir in questo momento. Ma dato che appunto sono a Lucca non potrò recensirlo fino al mio ritorno. Di conseguenza per tappare un po' il buco parlerò con voi del numero 1 del fumetto. Spero la cosa sia gradita. Prima di cominciare se ancora non lo avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un nuovo mi piace a questo video e anche a tutti gli altri. Che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano la mitologia dei vampiri o la mitologia dei vampiri della Bonelli. E di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero. Se lo avete recuperato come me in ritardo, se lo avete letto quando è uscito e se avete già visto il film commentate qui sotto senza spoiler. Non tanto per me ma per gli altri che magari non l'hanno ancora visto o se dovete fare spoiler scrivete spoiler e fate tanti spazzetti. Seguitemi anche sugli altri miei social tra cui Instagram dove magari farò delle stories a Lucca con altri youtuber che incontro in questi giorni. E Twitch dove chiaramente non potrò fare live perché sono Lucca ma le farò post Lucca. Devo dire che questo fumetto ha dei sapori molto classici. Per essere un fumetto del 2000 io lo potrei giudicare molto retro come tavole. Però devo dire che in un certo senso l'ho adorato e ho sentito molto la freschezza rispetto per esempio al numero uno di Dylan Dogg. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Mauro Boselli che credo sia appunto il padre di Dampi, Ray Maurizio Colombo. E i disegni sono di Mauro e proprio dei disegni vorrei un attimino parlare. Sono delle tavole molto disegnate molto bene ma dallo stile anche molto classico. La griglia è così classica che appunto a me ha ricordato un fumetto forse anche un po' troppo vecchio. Però è nella storia che si sente l'innovazione. Appunto ci sono alcuni escamotaggi narrativi che introducono il Dampi e tutta la sua leggenda che molto probabilmente negli anni 80, quando appunto faccio il paragone con Dylan Dogg perché è l'altra testata di Bonelli che io seguo e su cui ho un po' più di esperienza. Per esempio un numero uno di Dylan Dogg ha introdotto un pochino la mitologia nel numero uno in 4 e 4 e 8 e qui avrebbero introdotto Harlan in 4 e 4 e 8. Qua invece c'è tutto un preludio dove Harlan non accetta, non sa nemmeno lui chi è e va in giro a fare un po' il ciarlatano per poi scoprire che i suoi poteri sono veri, i poteri che decanta per arrivare a fine mese in realtà li ha davvero e può davvero sconfiggere i vampiri. C'è tutta un'introduzione molto lunga che serve a tenere alta la sospensione dell'incredulità in un fumetto degli anni 2000. Sicuramente in un fumetto degli anni 80 non si sarebbe preso tutta questa briga di sembrare realistico più a lungo possibile, ma nel 2000 chiaramente uno avrebbe mangiato subito la foglia e avrebbe detto ma non sto a leggere magari un fumetto che dà per scontato l'esistenza del sovrannaturale e dei vampiri nelle prime 5 pagine. Qua invece ci si prende il proprio tempo, magari anche tanto, per appunto introdurci lentamente in questo universo. Scelta coraggiosa, secondo me, quella di ambientare la prima storia nei Balcani, qua non è detto, ma è comunque nell'est dell'Europa, è una scelta molto coraggiosa perché non sono proprio, o meglio, sono Olande dove ci si può aspettare una leggenda vampiresca, ma non inscenate in un contesto moderno, moderno per gli anni 2000, di guerra, dove appunto non si associano i vampiri a delle guerre civili. E invece qua sono riusciti a unire il tutto per dare appunto ad Ampyr un sapore innanzitutto più terra-terra, ma soprattutto anche più vicino alla realtà, cioè è più, riesce quasi a essere più, come si dice, più di cronaca a Ampyr che non un Dylan Dogg che banalmente potrebbe essere, cioè è ambientato nel nostro mondo. Entrambi fanno parte dello stesso mondo, Ampyr e Dylan Dogg, però appunto in Ampyr il contesto realistico è affondato a piene mani. Esattamente come negli anni 80-90 tutte le battute di Groucho sulla Thatcher facevano ben capire la situazione londinese. Una strizzatina d'occhio simpatica è il fatto che anche questo ennesimo personaggio Bonelli venga accompagnato all'inizio dal suo assistente, dal suo fido assistente Dylan Agrauccio, Martin Mistera, Java, Zagora, Chico e Dampyr, questo ragazzetto che si accompagna a lui, che mi ha ricordato un pochino il ragazzetto, il giovane Shia LaBeouf del film Constantine con Chiano Reeves, no? Nulla, però non sarà davvero questo ragazzetto il compare della squadra di Dampyr, bensì sarà Kurjak o Kurjak, scrivetemi qua sotto come si pronuncia, io sono nuovo del mondo di Dampyr. Ed è bello che lo abbiano introdotto invece in questo modo, praticamente la prima storia è dal punto di vista di Kurjak, che è l'umano del gruppo fondamentalmente, quindi noi vediamo la storia con gli occhi di Kurjak, che appunto ci porta nel mondo di Dampyr. Ed è bello che una volta tanto l'assistente sia più forte, più forte no, perché comunque Dampyr dovrebbe avere una certa forza sovraumana, ma che sia comunque, abbia un fisico, una struttura più possente del protagonista, quindi non è una spalla comica, né tantomeno Tesla sarà una spalla comica, ma sarà una vera e propria squadra anti-vampiri che vedremo in azione. Io avrei introdotto Harlan da solo, senza l'assistente, perché me lo aspettavo che comunque questo ragazzino prima o poi in qualche modo sarebbe sparito nel numero uno per poi creare la vera squadra di Dampyr, quella che conosciamo tutti. Però va bene così, però allo stesso tempo io adesso non so se questo ragazzino sarà importante nella mitologia di Dampyr, non so se tornerà o se ce ne si dimenticherà in fretta, ma nella seconda opzione vorrei che non ci fosse nel film a questo punto, cioè vorrei che Dampyr venga introdotto da solo, perché ha senso in un fumetto dove serve una controparte per far dialogare il protagonista, ma in un film secondo me può benissimo essere introdotto da solo, esattamente come tutto l'espediente sogno-veglia della vecchina, secondo me può essere tranquillamente bypassato, però se dico una bestemmia per i puristi, fatemelo sapere. Per quanto riguarda Tesla, mi pare di capire che come la introdurranno nel film, almeno da quello che si evince dal trailer, sarà paro paro esattamente come l'hanno introdotta nel primo numero, però almeno nel trailer pare che ci sia un incontro tra Tesla e Harlan all'interno di una chiesa, quindi potrebbe essere proprio la chiesa che abbiamo visto in questo primo numero. Credo, credo, poi ripeto, dal trailer si può capire tutto e capire niente, che Tesla potrebbe essere il personaggio trasposto meglio per quanto riguarda la sua introduzione. È sicuramente per me il personaggio più interessante, perché? Perché io vengo dalla mitologia vampiresca di Buffy l'ammazzavampiri, quindi non concepisco molto il concetto del Dampir, perché vengo da un mondo dove un vampiro, salvo rarissime eccezioni, non può avere figli né con umani né con altri vampiri. L'unica eccezione che c'è stata in Angel, che tra l'altro non hanno nemmeno spiegato, è quando Angel ha avuto un figlio con Darla, che era stata un vampira, poi umana e poi di nuovo vampira, per strane ragioni apocalittiche. Ed è nato questo figlioletto, Connor, che non è mai stato chiamato Dampir, ma in realtà è a tutti gli effetti un Dampir, anche perché nella mitologia classica la figura del Dampir esiste. Però ecco, io non sono molto avvezzo a questo concetto, ma il concetto invece di una vampira che cerca di trattenere i suoi istinti animaleschi e combattere la sua stessa razza perché è votata al male è un concetto che invece già mi entusiasma di più proprio perché vengo dalla scuola di Buffy e quindi sono molto felice di vedere Tesla anche trasposta sul mezzo cinematografico. Quindi io credo che questo film potrebbe piacermi, poi potrebbe sicuramente piacermi perché ho meno conoscenza del media d'origine. Mentre il film di Dylan Dogg del 2010 non mi è piaciuto perché conoscevo molto di più Dylan Dogg, qua, avendo letto questo numero e altre tre storie di Dampir, chiaramente è ovvio che non ho tutto questo know-how da dire però il fumetto è diverso, quindi mi godrò il viaggio del film e spero però che piaccia anche ai fan del fumetto, ovviamente. Viene introdotto anche il concetto dei maestri della notte che sono appunto dei master rispetto ai vampiri che sono dei pedoni nella scacchiera di questa mitologia, sono bassa manovalanza e sono più o meno come degli zombie nel senso che nel concetto classico dello zombie possono essere controllati da qualcuno che appunto è questo maestro della notte. Un escamotage appunto ripeto che a me non piace molto perché secondo me, cioè nella mia concezione, il vampiro ha un'autonomia, ma ci sta per cambiare un po' le carte in tavola, anzi per tornare anche un po' al modello classico di vampiro, al modello di Bram Stoker, di vampiro, dove un maestro come Dracula può guidare, può diciamo manipolare elementi più deboli. Mi piace anche l'idea del maestro della notte che può, diciamo, muovere le sue pedine vampire verso il nemico, verso il Dampir in questo caso. L'unica cosa Labbonelli non ha ancora capito, nel 2000 non aveva ancora capito, che dare a un personaggio così tanti anni non lo fa appassionare a dei lettori giovani. Ora, è vero che il Dampir ha un aspetto da trentenne, ma non... cioè, ha comunque cinquant'anni. Se doveva avere vent'anni in più, io tanto vale che... cioè, non l'avrei proprio detto, avrei detto, ok, Harlan ha trent'anni, è stato concepito trent'anni fa. Dire che ne ha cinquanta lo invecchia troppo. Non lo invecchia troppo per essere affascinante come vampiro, ma se così fosse, Harlan avrebbe ben conscio il fatto di avere dei poteri strani, di avere dei poteri sovrannaturali, e quindi gli hanno dato questa età intermedia. Io semplicemente non avrei detto un cazzo, e gli avrei dato trent'anni. Però, va bene, vedremo più avanti se questa cosa verrà di nuovo tirata fuori, o se ci accontenteremo del suo aspetto da trentenne, e nessuno dirà più l'età di Harlan. Però ecco, non lo so, l'avrei sentito più vicino se fosse stato un eroe sulla trentina, nonostante io stesso vada sulla quarantina. Questo è il mio pensiero su il Dampir letto con un ritardo di 22 anni. Però ecco, mi è piaciuto avere una prima lettura prima di andare a vedere il film in sala. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo primo numero, e del film, se lo avete visto. Vi aspetto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.